Il Paese dell'Inverno Mi sono rimasta colpita dai contenuti, dalla forma poetica, dalla lingua di Paese e ho pensato di appunto creare questo spettacolo utilizzando la parola di Paese e sovrapponendo una narrazione di immagini visiva, personale e mi sono sentita di attraversare questa materia, cioè la materia mitologica che questi dialoghi portano e raccontano perché Paese li aveva già traditi in un certo senso quindi mi sono sentita anch'io in una sorta di legittimità di continuare a far avanzare la macchina mitologica quindi sfruttare questa lingua, queste storie, questi contenuti per raccontare e continuare a far fiorire la favola mitologica Ho scelto sei dialoghi, nel libro ce ne sono 27 ed erano quelli che avevano i contenuti che mi erano più vicini quindi c'era un discorso sul destino o la scelta a cui le nostre vite sono sottoposte c'è un rapporto con la fede, il credo e gli dèi c'è il rapporto con la madre, c'è il rapporto con la morte ma soprattutto c'è il rapporto con una parola creatrice nel senso che una parola che crea dell'epifania crea delle vite, delle altre vite il rapporto con la fede il rapporto con la fede